Gli Universal Studios hanno inaugurato a Los Angeles un parco a tema dedicato ai film della serie del maghetto Harry Potter, esauriti i biglietti per l'apertura al pubblico, una prima nella storia dei parchi divertimento. Presenti all'inaugurazione, l'attore affetto da nanismo Warwick Davis, alias il folletto Unci Unci nella serie cinematografica, tratta dai romanzi di J.K. Rowling. Avendo lavorato sui film per così tanto tempo, sono affezionato a questi ambienti, ad alcuni set ha spiegato, pertanto venire a passeggiare di nuovo nel villaggio di Hogsmeade, fino al castello di Hogwarts, è come tornare a casa. E c'era anche l'attore inglese Tom Felton, che nei film è il cattivo Draco Malfoy, nel frattempo cresciuto. Ovviamente quando arrivate nel centro di Hogsmeade è come essere a casa per me, mi sembra di camminare fino alla mia vecchia scuola, sui terreni della mia vecchia scuola, davvero un sacco di bei ricordi. Per Evanna Lynch, attrice irlandese nota per il suo ruolo della stravagante Luna Lovegood in Harry Potter, il parco è... Geniale! Allo stesso tempo un po' strano, perché attualmente vivo a Los Angeles, quindi è molto vicino a me. Il set inglese e tutta l'atmosfera qui a Hollywood è come avere un piccolo pezzo di casa per me. Il presidente degli Universal Studios, Larry Kurzweil, commenta... Sapevamo che c'era una grande richiesta, ma il tutto esaurito è qualcosa di grande, qualcosa mai successo prima. Siamo pronti per accogliere le folle questo fine settimana.